Il mio cane tira il guinzaglio, non riesco più a tenerlo, la passeggiata con lui è diventata impossibile, preferisco non portarlo più fuori. Ecco queste sono le domande e le risposte che molti miei clienti mi fanno. La passeggiata è un momento bellissimo con il cane e non può trasformarsi in un incubo. Oggi voglio darvi qualche consiglio per come trasformare la passeggiata in un momento magico, vediamo come. Ciao, sono Marzio Sala, Presidente e Direttore della Scuola per Educatori Cinofili di Affinity Dog ed oggi parliamo proprio dell'uso del guinzaglio. L'obiettivo di molti educatori cinofili è quello di correggere il comportamento del cane al guinzaglio senza però arrivare a considerare mai la componente umana. L'uomo ha molta importanza all'interno del processo della passeggiata al guinzaglio. Per come siamo conformati mentalmente e fisicamente quando ci troviamo di fronte ad una forza motrice noi opponiamo una forza dall'alto. Questa contrapposizione porta il proprietario ed il cane a non capirsi al guinzaglio e quindi a far sì che la passeggiata si trasformi in un vero incubo. Prova a pensare un attimo a cosa fai quando il cane tira il guinzaglio. Se ci pensi bene, quando il cane tira il guinzaglio tu alzi la mano verso l'alto per trattenerlo, ma in realtà lo stai solo trattenendo, non gli stai insegnando a camminare correttamente al guinzaglio. L'altra cosa che fai per esempio è quella di trattenere il guinzaglio con due mani portando in genere la sinistra verso il moschettone. Questo porta il braccio a lavorare in un'unica maniera, cioè a sentire tutta la forza del cane sul polso e fisicamente non è corretto. Questo porta a farti male, ti porta in sicurezza e ti porta a non gestire il tuo cane nelle situazioni anche più tranquille. Un'altra domanda che ti voglio fare è questa. Quando cammini, pensaci bene, che cosa fai? Cosa fai in automatico? Quando camminiamo tendenzialmente tendiamo a muovere entrambe le mani accoppiate il movimento delle gambe. Quando però siamo in giro con il cane la mano che tiene il guinzaglio rimane ferma, sempre a trattenere il cane e puntualmente viene spostata indietro. Prova a trasmettere tranquillità al tuo cane e soprattutto prova a fidarti e prova a camminare con le mani lungo le gambe e a muoverle come se stessi camminando per andare a fare la spesa o semplicemente per andare a fare shopping e vedrai che il tuo cane si tranquillizzerà e camminerà di fianco a te in maniera tranquilla e serena, senza strattonare. Questi sono solo dei piccoli consigli per migliorare la passeggiata al guinzaglio. chiaramente il consiglio che ti do è quello di farti aiutare da un educatore cinofilo per impostare al meglio l'uso del guinzaglio e quindi della passeggiata. Spero di esserti stato utile e fammi sapere cosa ne pensi nei commenti qui sotto. Se non l'hai ancora fatto ti ricordo di iscriverti al nostro canale youtube e di seguire i nostri corsi sul sito www.affinitydog.it. Seguici anche sulla nostra pagina facebook www.affinitydog.educazionecinofila e sul nostro profilo instagram www.affinitydog.educazionecinofila.